GAS diretto verso di voi, è meglio se mi spostate. Attenzione, mi sbustano. Occhio dallo spari, perdendo. Mi perciagliano! Mi perciagliano! Fatto! Ok, sprando. Il nemico in discesa nell'area operativa! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Vi aggiornati, passare alla prossima area! Vi aggiornati! Di dietro ci fanno pugni, di sotto sul tetto. Una battaglia autista! Nemico rimosso! Mi stanno colpendo! Sto subendo un po' con il giro! Sto colpendo! C'era il mio tavola, bello! E' il mio tavola, bello! Una pattuglia ha uscito! Attenzione, attenzione, attenzione! Si! Craccato, craccato, craccato! Un nemico in discesa nell'area operativa! Tym начpez! Prostati! Un'altra terra! Andru Exit Ah, uno è arrestato, uno è arrestato, un altro qua, un altro qua, qua, ecco, me l'ha dato, me l'ha dato adesso, me l'ha dato lì Siamo nella zona sicura, occhio ai nemici, nemico in discesa nell'area operativa, una pattuglia ultima Vai, vai, vai Ok, siamo noi due, andiamo Ah, uno dietro, marci, non mi ferma In movimento Mi attaccano Sposo, sposo, sposo Sposo Ma va, d'acqua, ecco, uno dietro, uno dietro No, non so se ci meravano, tu Stavo caricando Ho colto, più chiaro Ho cambiato arma, non devo ricaricare quell'altro Pieno, eh, adesso è pieno Sì Vai che Approvvigionamento Dispositivo avvistato Ma ti manca lo sciacallo Senti, ah, lo sciacallo Sai te, Marco, quanto ti manca Ma lo sciacallo Proviamo il video Punto subito Un nemico in discesa nell'area operativa Vedo il bersaglio Innesco una mina di carri Sì, scelta Adesso Un nemici nell'area Un nemici nell'area Un nemici nell'area Un nemici nell'area Possiamo andare alla... Abbiamo uno a destra Stanno colpendo Versaglio localizzato Fatto Buona, buona Claymore in posizione Arrivano Sul... Flyer, flyer, flyer Arrivato Che sta? Fatto, fatto Siamo nella zona sicura Occhio ai diritti Bravo, bravo Dove caccia ora? Eh, è venuto da lì qua È arrivato È capitato in mezzo È arrivato da qui È arrivato da qui Hanno colpito Occhio, occhio, occhio Mi hanno colpito, mi hanno colpito Eh, da contro anche, ti vedi Dio Eh, mamma mia Vai di due Dio, stanno arrivando da noi Mamma mia Stanno pushando Claymore in posizione Allora, ne ho uno qua Un fermo bersaglio o sfida Un piano colpito Strammizzazione Occhio in alto Uno a terra Uno sotto Se lo toghi Un alto Sono super vivo Nel more Se l'ho avuto La seguira Mettere Strammizzazione La sua squadra è stata eliminata Resti Saldi in corso Resti Un 90% Il retoccato Un 90% Un ab il nemico in volo Rirono Sendo la vuoi di nuovo Non per essere Lancia una flashbang Si eh ha una qui io sono morto, qua ce n'era una mi hanno colpito mi hanno colpito dovremmo provare ad entrare dentro quella casa lì voglio che sparano da su dai che mi hanno secchinato porca quella troll state perdendo terreno UAP nemico in volo alla zona sicura subito bersaglio localizzato NEMICO IN DISCESA NELL'AREA оперATIVA NEMICO IN DISCESA NELL'AREA OPERATIVA SIGLATOR TALLA bersaglio taglio dai uno staglio uno staglio a un altro spazio e li hanno colpito No ma perché scendotto là dentro Marco mi tiene sta orsando ma è tardi ah che porca trolla dai